Dal controllo delle buste paga all'impugnazione dei licenziamenti, dal recupero dei crediti di lavoro all'emersione del lavoro nero, sono alcuni dei servizi che la CISL offre ai lavoratori con Sindacare, lo sportello ufficialmente aperto questa mattina in via Zara, con un obiettivo preciso, tutelare i lavoratori, sia pubblici che privati, in tutte quelle situazioni in cui ne vengono violati i diritti. Quindi attenzione particolare sarà rivolta anche ai lavoratori che non hanno avuto la regolarizzazione del loro rapporto di lavoro, che operano sulla base di un contratto individuale, vale a dire coloro che non sono dipendenti e quindi non godono delle tutele proprie dei contratti collettivi nazionali. Perché non passa mai di moda il rispetto dei diritti e delle norme contrattuali e quindi la necessità di tutelare le persone in questa logica. Lo sforzo che noi facciamo è proprio quello di far sentire meno sole le persone che dopo gli anni della crisi hanno richiesto e richiedono fortemente questa tutela da parte del sindacato. La CISL, nella sua dimensione associativa, nella provincia di Salerno cerca di dare questa risposta. Funzioneremo con uno spertello fisso sulla sede di Salerno, una rete che è costituita dalle sedi territoriali della CISL nella provincia, dove quelli saranno i punti di ascolto e di raccolta, le lavorazioni delle pratiche per quello che necessitano, verranno lavorate presso la sede provinciale, qui con l'operatrice, con Tonia, nostra amica e collaboratrice. Ovviamente il tutto sarà anche collegato con Sindacare, che è il progetto che è nato dalla CISL nazionale già da qualche anno e che ci consentirà anche di avere una casistica rispetto alle sentenze che via via vengono avanti nel mondo del lavoro, nella tutela contrattuale dei lavoratori.